Massimiliano Latorre e Salvatore Girone devono essere processati in Italia. Questa la richiesta è inseguita con forza dal sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura che intanto sulla base delle convenzioni di Ginevra sta tentando il trasferimento dei due marode al carcere di Trivandrum a un luogo più adeguato. Il premier Mario Monti poi non ha perso occasione per un faccia a faccia a margine della riunione dell'Ecofin a Bruxelles con l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune europea degli esteri Katrin Ashton a cui l'Italia si era rivolta la settimana scorsa perché intervenisse a nome dell'Unione Europea e si attende per le prossime ore la sua risposta. L'Ashton risponderà sull'iniziativa europea e sulla pirateria nell'oceano indiano si è attesa anche per l'informativa di terzi al Parlamento per le polemiche che stanno investendo la farnesina. Secondo il ministro degli esteri la petroliera Enrica Lexi a bordo della quale c'erano i due marocchi avrebbero sparato il 15 febbraio scorso non avrebbe mai dovuto entrare nelle acque territoriali indiane. Terzi intanto ha detto che gli spunti polemici sull'attività del suo ministero non aiutano certo a risolvere le crisi diplomatiche aperte in India e in Nigeria e ha rivendicato che l'impegno della farnesina è fortissimo e quotidiano. Tra polemiche manifestazioni fiaccolate a Taranto, ce ne sarà una sabato prossimo, De Mistura ha incontrato nuovamente i marocchi con i quali ha parlato di una strategia per uscire il prima possibile da questa situazione. La Torre Girone inoltre hanno affidato al sottosegretario dei messaggi da portare alle rispettive famiglie che De Mistura incontrerà a giorni. Il rientro a Roma del sottosegretario è previsto per la mattinata di mercoledì 14 marzo. A lui subentra sul campo il direttore centrale per l'Asia della Farnesina e dell'abbasciatore a Nuova Delhi, Giacomo Sanfelice.